L'argomento del mio intervento è gli atleti trapiantati. Esistono moltissime persone che devono subire un trapianto di organo solido in seguito a malattie croniche o acute e queste persone grazie al trapianto possono tornare alla vita normale e la questione è sempre ma queste persone possono praticare sport. Allora noi abbiamo costituito con il Ministero della Salute, il Centro Nazionale Trapianti e una serie di associazioni e enti e università uno studio multicentrico proprio per capire se è possibile per queste persone praticare sport e praticare anche attività fisica. La risposta è ovviamente sì, è chiaro che ci vuole una buona compatibilità con la terapia immunosoppressiva e poi bisogna lavorare per poter fare un po' di esercizio, quindi accedere alle palestre, accedere a dei servizi pubblici e quant'altro. Le cose interessanti sono che le persone che riescono a fare esercizio fisico e anche praticare sport stanno sostanzialmente meglio. Abbiamo fatto un'esperienza abbastanza importante con i trapiantati di rene dove si è visto proprio che la funzionalità renale in quelli che riescono a praticare sport migliora e non è proprio uguale a quella dei soggetti di controllo, però sicuramente questa funzionalità è migliore e quindi anche lo stile di vita e la qualità della vita migliore per queste persone. Abbiamo poi fatto uno studio proprio sugli atleti che praticano gli sport e quindi quello che viene fuori è che ci sono molte persone che hanno subito un trapianto essendo atleti, atleti che praticano calcio per esempio a livello agonistico, basket, c'è uno snowboardista che è arrivato a medaglia alle olimpiadi invernali e molti altri e poi ci sono anche molti che fanno esperienze di alpinismo, alpinismo d'alta quota, arrivano fino a 6.000 metri, quindi è possibile con il trapianto effettuato correttamente e con una buona compatibilità con la terapia immunosoppressiva tornare anche a fare prestazioni di alto e di altissimo livello. Quindi il messaggio è lavoriamo per curare questi pazienti, per migliorare la compatibilità con il trapianto e soprattutto facciamo in modo che facciano sport, che facciano attività fisica perché questo è sicuramente importante per la qualità della vita e in fin dei conti può abbattere anche i costi delle terapie poiché si possono avere anche minori quantità di farmaci che aiutano queste persone a far fronte agli effetti del trapianto. Grazie a tutti! Grazie a tutti!